e tra mezz'anima l'azione continua con Fontolan che cerca di liberarsi e ci riesce deve rincorrere il pallone Paganin senza indugio lo lancia in avanti c'è il buon controllo di Fontolan che un calcio d'angolo cerca di reagire Fontolan il tempo di testa è stato di Massimo Paganin per Fontolan in questo momento nella classifica generale della Serie A per l'Inter si rialza comunque Fontolan impossibile da giudicare come anonima intanto rivediamo l'azione Balleri in lotta con Fontolan tenace Caparbi e Fontolan a proseguire Balleri velocissimo ancora Balleri e recupero di Fontolan grandi applausi per Fontolan grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti